. Arrivano buone notizie dalle condizioni di Davide Carnielli, uno degli escursionisti sopravvissuti al disastro avvenuto sulla marmolada avvenuta lo scorso 3 luglio, in cui hanno perso la vita 11 persone. Il giovane, rimasto ferito durante il crollo del ghiacciaio, inizia a migliorare nella giornata di ieri, martedì 23 agosto, ha iniziato la fase di risveglio dal coma. La bella novità è stata confermata sui social dalla sorella Valeria, siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio, la fine di un incubo iniziato quasi due mesi fa per il consigliere comunale di Fornace, in provincia di Trento. Per lui adesso inizierà un percorso di guarigione molto lungo, come sottolineato dalla sorella, saremo per sempre grati agli angeli del soccorso alpino, e a tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale di Treviso per le amorevoli cure prestate. Ora lo attende un lungo percorso di guarigione, accompagnato dall'amore dei suoi familiari. La donna ha voluto ringrazia le reistituzioni politiche, ai militari dell'arma dei carabinieri e agli psicologi presenti a Canazzei, che hanno sostenuto le famiglie delle vittime e alle persone coinvolte in questa tragedia. Il giovane aveva riportato un trauma cranico importante, inizialmente ricoverato a Treviso e era stato poi trasferito a Trento. Lentamente le sue condizioni hanno continuato a migliorare, fino alla fase di risveglio dal coma. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.